ben trovati amici di le fonti tv eccoci pronti per un nuovo approfondimento nell'ambito della settimana dedicata alla sostenibilità e allora questa parola naturalmente la utilizzeremo spesso ed è un po una parola chiave del periodo in realtà già da molto tempo si parla di atteggiamenti sostenibili e cercheremo di approfondire questo tema con focus in particolar modo lo vedete lo recita anche il nostro titolo il titolo che abbiamo voluto dare a questo approfondimento con focus sul ruolo del settore assicurativo questa non sarà una vera e propria tavola rotonda mi piace chiamarla di più dibattito confronto proprio per l'importanza come dicevo poco fa che ha il tema della sostenibilità e allora partirei proprio dalla definizione di sostenibilità perché dalle cose bisogna sempre partire con le basi altrimenti sappiamo o pensiamo di sapere sempre di cosa si parla ma poi in realtà magari non sappiamo circoscrivere l'argomento e leggo testuali parole nelle scienze ambientali ed economiche condizione di uno sviluppo in grado di assicurare il soddisfacimento dei bisogni della generazione presente senza compromettere però i bisogni delle generazioni che verranno quindi delle generazioni future il concetto è stato introdotto nel corso della prima conferenza onu sull'ambiente nel 1972 e a oggi giusto per arrivare a tempi ovviamente contemporanei è un po il diktat questa è la definizione infatti di sviluppo sostenibile che in qualche modo gol globale grazie l'agenda 2030 delle nazioni unite ovviamente in questo contesto ne parleremo del ruolo del settore assicurativo lo diciamo ancora perché vado a presentare subito i miei ospiti che mi hanno raggiunta in studio e parto da angela rebecchi ben trovata general manager qba italia grazie per essere con noi paola sabino al lupo stanghellini global sustainability officer gruppo alfa parf milano buongiorno ben trovata buongiorno grazie per l'invito guido zanetti managing director pro attiviti grazie a tutti ci diamo del tu in questo confronto siete d'accordo proprio perché è un tema che deve essere alla portata di tutti siete d'accordo giusto allora angela io partirei proprio da te perché sul cambiamento climatico partire da questo aspetto gli assicuratori sono sotto diversi riflettori cosa intendiamo dire da una parte risk manager chiedono alle compagnie delle soluzioni che in qualche modo possano portare alla protezione dei rischi proprio per le imprese dall'altra parte gli investitori guardano alla sostenibilità finanziaria per gli assicuratori degli effetti del cambiamento climatico a questo punto cerchiamo di mettere insieme i due aspetti e capire qual è il vostro orientamento da questo punto di vista il cambiamento climatico è sicuramente uno dei fattori che vede il comparto assicurativo il mondo assicurativo come uno dei principali attori innanzitutto per un fattore diciamo così proprio di quello che è l'attività del del settore assicurativo il settore assicurativo si occupa di rischi quindi si occupa di valutare i rischi e poi sostenerli finanziariamente e sui rischi del segmento climatico su tutto quello che è la diciamo il l'evoluzione del degli eventi climatici il settore assicurativo è stato negli ultimi anni un attore principale non solo da un punto di vista di quelli che sono i indennizi proprio di sinistri in questo segmento che si sono decuplicati ma anche da un punto di vista di analisi di quelli che sono gli scenari di rischio e ha vissuto in prima ha vissuto e vive in prima persona la diciamo l'imponderabilità di questi scenari quindi questi fattori esogeni che cambiano continuamente gli scenari di previsione dei rischi e quindi rendono appunto l'evento in sé il rischio in sé sempre meno prevedibile quindi questo è un po il ruolo che si trova a svolgere l'assicuratore in questo settore e QB in particolare in questi anni ha scelto di prendere una posizione piuttosto forte all'interno di quello che è un impegno verso un futuro più sostenibile sia da un punto di vista sia come investitore quindi aderendo all'organizzazione delle nazioni uniti che si chiama net zero asset owner sia come assicuratore quindi facendosi parte di questo progetto di supporto anche poi ne parleremo sicuramente anche più avanti perché quando diciamo che cosa cosa si aspettano gli assicurati cosa si aspettano i clienti le aziende dal mondo degli assicuratori credo che si aspettino anche un aiuto un supporto a procedere in questo verso questo obiettivo che non è un obiettivo facile non è un obiettivo che potremo raggiungere nel breve anzi sicuramente un obiettivo di lungo termine forse nel breve anzi sicuramente nel breve lo vediamo proprio guardando il comparto energetico lo vediamo su quello che ha determinato la crisi russa ucraina no quindi nel breve probabilmente avremo forse dei dei rallentamenti se non addirittura degli stop ma l'obiettivo è un obiettivo a tendere dicevi bene tu prima nel definire quello che è il concetto della sostenibilità lasciare alle generazioni future qualche cosa che quantomeno non sia stato eroso quantomeno non sia stato toccato noi in questo momento stiamo toccando pesantemente quello che è il diciamo così il il clima e il famoso obiettivo che ci siamo posti che si è posti ci si è posti nella conferenza di parigi è stato ribadito anche l'anno scorso a glasgow del mantenere entro il grado e mezzo di di aumento della temperatura è un obiettivo che non è non è non è per niente che è certo e verso il quale anche a fronte di questi rallentamenti di cui parlavamo probabilmente bisognerà fare qualcosa di più assolutamente la parola strutturale no bisogna ovviamente pensare in modo strutturale e chiaramente gli interventi strutturali necessitano di più tempo però insomma bisogna partire da questo punto di vista diciamo come partenza siamo già un po di corsa mettiamola così per non utilizzare la parola il ritardo che non è mai troppo costruttiva diciamo siamo di corsa guido zanetti vengo da te per questo motivo perché se parliamo delle società di consulenza ovviamente dimmi se sto dicendo qualcosa di sbagliato sono un punto di osservazione molto importante in questo contesto no per capire sicuramente che cosa sta accadendo nelle imprese anche per capire quanto vengano recepiti questi messaggi da parte delle imprese un po' quello che dicevamo con angela c'è su certe cose siamo un po di corsa quindi è necessario fare il punto della situazione perché chiaramente la domanda è a che punto sono le imprese italiane nell'incorporazione del rischio climatico proprio del nei sistemi di risk management ma guarda innanzitutto è vero che come società di consulenza abbiamo una visione come proprio come categoria una visione privilegiata sul mercato proprio perché abbiamo possibilità di vedere tante aziende diversi settori industriali diverse dimensioni di società e mi viene da dire che il panorama che ci si presenta davanti devo dirti che abbastanza disomogeneo almeno per quanto riguarda direi per quanto riguarda l'italia ma direi che non è solo un tema italiano perché se potessi in qualche modo fammi dire riassumerti quella che è un po' la mia visione attuale ti direi che probabilmente nei primi anni se parliamo di sostenibilità in senso più ampio quindi gli esgi e non ci soffermiamo solo l'aspetto una prima visione fammi dire su un aspetto climatico o environmental per così dire ti direi che c'è stata una sorta di abbuffata da parte delle società bisognava parlarne bisognava entrare nel tema bisognava parlare di reporting e quindi molte sono società che hanno incominciato ad affrontare il tema diverso però è dire che le società hanno davvero fatto tutte il passo di come posso dire inglobare consolidare quello che è il concetto di sostenibilità anche ambientale all'interno del loro modo di fare business questo è uno step successivo che sicuramente alcuni hanno fatto alcuni settori sono certamente più avanti anche perché spinti fatemi dagli eventi in qualche modo non ultimi quelli di quest'estate e così via perché alla fine non dimentichiamoci che il management delle società e sono anche cittadini che vivono quelli che sono i problemi di tutti però sicuramente ti direi che entriamo oggi in una fase di in questi prossimi anni di consolidamento le società devono fare un passo avanti devono passare da una visione più superficiale a una visione davvero di integrata in cui i risk management possano davvero far cogliere quali sono gli aspetti all'interno del modello di business delle società che devono essere presi in considerazione quindi rischi e opportunità se poi mi concentro poi sui temi ambientali sul tema dei rischi climatici che sono oggi sotto gli occhi di tutti secondo me l'elemento da tenere in considerazione anche parlando di assicurazioni naturalmente è il fatto che ci sono due macro categorie di rischi che bisogna considerare cioè ci sono rischi fisici quelli che vediamo noi tutti quindi fenomeni estremi eventi o inondazioni temperature siccità e così via che in qualche modo impattano sui nostri asset quindi sulla capacità di fare business nel medio periodo e dove chiaramente uno degli elementi che dobbiamo prendere in considerazione in maniera molto più seria in maniera molto più strutturata è proprio il tema assicurativo quindi di mitigazione del rischio non da solo naturalmente perché le aziende dovranno piano piano interrogarsi su dove investire come investire nel medio e lungo periodo gli altri elementi il percorso più giusto insomma il percorso più corretto il percorso più giusto l'altro elemento solo in un secondo è che ci sono i cosiddetti rischi di transizione cioè le aziende si dovranno anche domandare ma come cambiano i miei mercati come cambiano i miei clienti come mi guarderanno i miei investitori questo è un altro elemento che diventa fondamentale per quello che dico è necessario passare da una visione più superficiale a una visione più consolidata perché è un processo che poi riguarda tutti no quindi se anche da una parte si comprende poi però bisogna assicurarsi che anche chi riceve il messaggio abbia compreso l'entità dell'evoluzione di cui stiamo parlando assolutamente assolutamente così riguarda tutti e per quello che intendo riguarda tutte le aziende di ogni dimensione perché è un tema comune a tema comune riguarda tutti noi come cittadini riguarda tutti noi come manager delle nostre le nostre imprese che poi lungo andare diventa anche diciamo così mi verrebbe da dire riflessione senza non me la sono preparata diventa anche qualcosa di più democratico cioè mette nelle condizioni tutte le imprese grandi e piccole di poter in qualche modo concorrere allo stesso modo certo con magari risorse diverse ma a partire da una base comune giusto questo questo può aiutare proprio in generale anche l'economia del nostro paese avendo poi se posso dire una visione di medio lungo periodo l'unione europea sta cercando di aiutarci ad averla sta a noi farla nostra e non fermarci alla superficie è più complicato ma se riusciamo a superare questo forse davvero poi la strada diventa più spianata paola alfa parf gruppo una multinazionale italiana nella della cosmetica professionale perché lo sottolineo perché alimentazione pura della persona sono stati proprio tra i settori più influenzati dai modelli di consumo che in qualche modo sono orientati alla protezione dell'ambiente non questo viene da sé si capisce chiaramente quali interventi fino a questo momento poi vediamo insomma cosa bisogna ancora fare come stiamo facendo come abbiamo fatto anche con gli altri due relatori quali interventi sono stati compiuti per adeguare la gestione industriale il portafoglio d'offerta proprio principi esci per noi c'è stato un punto di svolta nel 2018 anno in cui l'azienda ha deciso di istituzionalizzare e proprio decidere organizzare in maniera strutturata il proprio percorso di sostenibilità scegliendo questo percorso di sostenibilità e scegliendo i propri obiettivi quindi appunto per noi il 2018 è una sorta di anno zero l'anno successivo nel 2019 abbiamo pubblicato il nostro primo bilancio di sostenibilità che ci ha consentito di vedere a che punto eravamo quindi di analizzare le nostre performance da un punto di vista ambientale sociale economico e di governance e questo è stato molto importante perché ci ha dato la base di partenza poi purtroppo c'è stato il covid che ha rallentato un po' le cose ma si è andati avanti e nel 2021 è stato creato il dipartimento di sostenibilità con delle persone dedicate per occuparsi solo di sostenibilità anche questo per un'azienda è un passo molto importante di solito si comincia con le società di consulenza e poi le aziende ovviamente quelle più grandi più strutturate fanno il salto e aprono creano un proprio dipartimento di sostenibilità ovviamente è stato creato anche un comitato di sostenibilità e ci si è focalizzati sulla creazione del piano di sostenibilità aziendale che è stato varato per noi all'inizio del 2022 e contiene gli obiettivi per il triennio 2022-2024 il nostro piano di sostenibilità è incentrato su quattro pillar fondamentali il primo riguarda la governance e quindi il macro pillar appunto della governance per noi è essere trasparenti e responsabili ciò significa integrare la sostenibilità in tutte le nostre attività e soprattutto nelle nostre strategie di business esattamente come diceva il collega quindi dare le fondamenta ecco non solo superficie ma qualità insomma e convinzione soprattutto in quello che si fa quella è la cosa principale no non tanto per farlo ma perché si è convinti che sia la strada giusta sarà una cosa banale ma non sempre viene recepita insomma quindi assolutamente la strada giusta da più più punti di vista per rispondere a quelle che sono le richieste dei nostri clienti per la sopravvivenza la prosperità dell'azienda stessa eccetera quindi proprio una scelta consapevole ovviamente sempre nel campo della governance per noi è importantissima la comunicazione che deve essere trasparente chiara completa a tal fine abbiamo completamente rifatto il nostro sito web e abbiamo approfondito dei concetti per noi molto importanti della nostra vision la nostra mission ma anche c'è una sezione nuova interamente dedicata alla governance è una sezione molto approfondita sulla sostenibilità quindi proprio per comunicare quello che abbiamo fatto abbiamo intenzione di fare e ovviamente ci siamo impegnati a gestire in modo proattivo i rischi considerandoli a 360 gradi quindi considerando tutti i rischi ISG quindi una rivalutazione di tutto quello che è il nostro sistema di gestione dei rischi dal punto di vista invece dell'economico insomma che il secondo pillar noi intendiamo continuare a crescere e continuare a creare valore nel lungo periodo investendo sulla ricerca e sullo sviluppo che sono alla base di tutta quella che è la nostra attività perché il nostro gruppo ha tre centri di ricerca e quindi la ricerca per noi è fondamentale e vogliamo assolutamente continuare in quella direzione ci stiamo dedicando molto anche alla nostra catena di fornitura quindi al monitoraggio della catena di fornitura che sarà uno dei trend topic del futuro adesso chi vuole diventare fornitore Alfa Parf Milano deve avere determinati requisiti di sostenibilità economico ambientale sociale che noi ci impegniamo naturalmente a verificare e poi anche a monitorare nel corso del tempo e questo è fondamentale perché si deve creare insomma un circolo virtuoso quello che dicevamo prima devo ricordare un po' tutto dal punto di vista ambientale il nostro focus è ovviamente la lotta al cambiamento climatico quindi contribuire a mitigare il cambiamento climatico sia per quanto concerne il nostro processo produttivo sia per quanto concerne i nostri prodotti quindi ci siamo impegnati a introdurre le energie rinnovabili abbiamo tre stabilimenti su cinque che hanno energie rinnovabili hanno energia elettrica rinnovabile e da quest'anno nello stabilimento produttivo italiano abbiamo le emissioni di co2 del gas naturale interamente compensate dal punto di vista dei prodotti anche qui abbiamo lanciato una linea skin care olos dove abbiamo ridotto all'osso quelle che sono il packaging utilizzando anche materiali riciclati abbiamo ad esempio eliminato il bugiardino il foglietto illustrativo e l'abbiamo sostituto col QR code ci siamo impegnati a ridurre appunto il più possibile le emissioni legate al packaging insomma hanno un grosso peso e poi a compensarle attraverso un progetto di lifegate abbiamo compensato tutte le emissioni residue questo esperimento è stato un ottimo esperimento ci ha dato molti molte soddisfazioni e nei prossimi mesi verrà lanciata una linea con le stesse caratteristiche di sostenibilità ambientale ma anche sociale perché poi questi progetti ad esempio olos utilizzava anche degli attivi che derivavano da agricoltura sostenibile che derivano da agricoltura sostenibile quindi a beneficio delle comunità locali dicevo nei prossimi mesi lancieremo un progetto con le stesse caratteristiche nel campo della cura del capello quindi una linea sostenibile sul fronte air poi dal punto di vista sociale siamo sempre impegnati a prenderci cura delle persone dei clienti ma anche delle comunità locali quindi mettendo in campo in prima persona o finanziando progetti che abbiano delle ricadute positive su persone clienti e comunità locali è partito un grosso piano di formazione di sostenibilità che coinvolgerà tutti i dipendenti dell'azienda siamo partiti con una pilota diciamo in italia e adesso inizieremo a formare sulla sostenibilità tutti i dipendenti anche all'estero per quanto riguarda i clienti forniremo formazione di sostenibilità anche ai nostri clienti mentre per le comunità locali continueremo con i nostri progetti di supporto a tutte le iniziative culturali sociali a favore delle persone svantaggiate che sosteniamo perfetto allora tante cose trasparenza responsabilità tante parole veramente importanti che dobbiamo segnarci nel nostro vocabolario se non ci fossero ancora ma in modo concreto allora dobbiamo andare un po più serrati col secondo giro di domande ma ci sono altre tanti aspetti che voglio che voglio analizzare con voi quindi ce la faremo a dire tutto perché come detto è uno spazio importante questo allora angela ritorno da te andiamo ancora più sul pratico che cosa possono fare gli assicuratori per contribuire proprio la transizione ambientale delle imprese in termini di soluzioni assicurative quindi ancora questa parola e di approccio al risk management ma allora sicuramente come ti dicevo prima il nostro diciamo la nostra esperienza il nostro background nell'analisi di quelli che sono gli eventi climatici è qualche cosa che può essere messo a fattor comune ovviamente il mettere a fattor comune significa trovare dall'altra parte aziende come per esempio alfapar che hanno voglia di crescere insieme ai propri fornitori clienti e interlocutori quindi hanno voglia di condividere esperienze e da questa condivisione può nascere ovviamente una maggior conoscenza del problema e anche delle degli approcci alla tematica diversi noi abbiamo recentemente lanciato una unit diciamo sottoscrittiva quindi di business che si occupa esclusivamente di energie rinnovabili da fonte rinnovabili e quindi in questo modo l'obiettivo è quello di mettere a disposizione dei clienti il nostro know how che avevamo già quindi abbiamo semplicemente staccato e diciamo così accentuato quindi l'obiettivo è quello di metterla a disposizione dei nostri clienti e di condividere con loro questo tipo di esperienze da un punto di vista di messaggio e di impegno sociale e poi condivido uno di assolutamente il passaggio che hanno fatto i colleghi prima questo è un percorso che non si fa solo sul prodotto non si fa solo sulla parte diciamo così offerta questo è un progetto un processo che si fa o si fa internamente a 360 gradi riguarda l'intero framework dell'azienda oppure non 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 attecchisce non lascia non lascia diciamo segnali pro futuro e l'altra cosa che noi abbiamo fatto è stato il lancio di un diciamo così di un'iniziativa volta a sensibilizzare coinvolgere i nostri clienti su quello che sono gli investimenti proprio in diciamo così di aree ad impatto sociale quindi bond green bond investimenti con questo prodotto che si chiama premium for good che di fatto chiama un po a raccolta i clienti con un certo diciamo così che condividono questo tipo di tematiche e li coinvolge in una in un'operazione che poi è di investimento il cui però diciamo così esiti riguardano solo la compagnia quindi non il cliente non è chiamato a investire dei propri soldi noi investiamo i premi assicurativi del cliente ma è un modo per coinvolgere anche i clienti in questo tipo di tematica indirizzare parlarne la condivisione del dato è un è una è qualcosa di importante e lo è ancora di più in questa in questi ambiti perché il mondo assicurativo purtroppo storicamente è abituato a lavorare su meno con meno dati possibili questa non è una cosa che può far bene in generale e soprattutto può aiutare entrambi quindi clienti assicuratori a trovare le soluzioni migliori più evolute e più diciamo così ad hoc per l'azienda per i dati ci danno la fotografia della realtà i dati e soprattutto questo tipo proprio di approccio che raccontava adesso quindi questa cosa è importante per il mondo assicurativo ecco un altro ostacolo mettiamola così guido torno da te la mancanza di parametri è stata proprio fin qui un ostacolo nelle politiche ISG delle imprese confermi ma si devo dirti ma noi siamo in una fase di transizione in qualche modo tante direttive tante normative a livello locale a livello europeo tanti standard questo inevitabilmente crea confusione anche prego mi dicevo siamo nel mezzo del guado ci sono ancora una serie di norme che devono generare i propri effetti prima paolo ci diceva tutto il tema delle delle terze parti dei fornitori anche qui c'è una direttiva europea che entrerà che comunque sotto è in discussione ci sono evoluzioni tutto quello che sono le normative di reporting il mio invito però come ci stiamo dicendo qua è di focalizzarsi non tanto sull'aspetto obbligatorio della tematica quindi del reporting ma di andare fatemi dire al concetto all'oggetto al perché sto facendo certe cose uno dei temi che c'è se mi focalizzo sull'aspetto di ambientali sul rischio climatico è perfetto ma a quali scenari potrei fare riferimento no perché se devo capire cosa succederà al mio business e tutto quello che mi circonda da qui a 20 30 50 anni andiamo sempre su scenari più in là nel tempo quindi sempre più più difficili da immaginare ce ne sono tanti a quale mi affido non c'è come dicevamo con angela quali indicazioni si possono dare fondamentalmente certo certo allora come dicevo non c'è uno standard ufficiale però uno degli elementi a cui ci si può fare riferimento a mio avviso sono gli scenari che in qualche modo ha scelto la banca centrale europea perché perché la banca centrale europea si rifà a un gruppo di banche internazionali che definono degli scenari con cui il gruppo il mondo finanziario si sottopone per degli stress e perché suggerisco di partire da questi perché chiaramente le aziende vivono col finanziamenti delle proprie banche delle proprie istituzioni finanziarie quindi sapere con quali occhi mi sta guardando i miei mi stanno risippongono loro quando mi guardano quando mi regano può essere un buon punto di partenza non è detto che sia il migliore non è detto che sia per tutti la soluzione giusta ma sicuramente in una situazione così articolata magmatica oserei dire in questo momento un buon punto di partenza certo questo questo sicuramente il manager 1 esatto uno start importante interessante paola prima tu c'è già un po parlato dei progetti però io volevo sottolineare un altro un'altra cosa e parlare ancora di risorse come utilizzare le risorse allora voi siete stati inseriti che tra le imprese italiane tra i leader della sostenibilità 2022 ovviamente parliamo di imprese italiane che si distinguono proprio per la migliore combinazione tra performance ambientale sociale ed economica e quindi avete beneficiato di finanziamenti appunto ad hoc perché per questo titolo che vi siete guadagnati come intendete a questo punto utilizzare le risorse che non devono essere assolutamente disperse ma noi a questo tavolo siamo d'accordo stiamo proprio lanciando questo segnale però come ho fatto con gli altri ospiti andiamo ancora più nel concreto certo noi sì sia nel 2021 poi abbiamo avuto la riconferma nel 2022 siamo stati come battuta però insomma se c'è una riconferma vuol dire che è proprio così sì siamo stati riconfermati leader della sostenibilità questo riconoscimento viene dato analizzando i bilanci di sostenibilità o le rendicontazioni di tipo non finanziario delle aziende e quindi insomma viene valutato come vengono rendicontate le performance delle varie società nei campi economico e sociale ambientale di governance gli sforzi fatti appunto hanno prodotto dei risultati e quindi ci siamo dati degli obiettivi li abbiamo raggiunti e oltre aver avuto questo riconoscimento abbiamo avuto accesso a questi prestiti insomma abbinati appunto alla tematica di sostenibilità siamo un po nel nel nuovo mondo insomma della finanza sostenibile diceva prima guido servono scenari precisi adesso l'unione europea ha cercato di fissare dei paletti proprio per quanto riguarda gli investimenti sostenibili abbiamo tutto sentito parlare della tassonomia migliorabile però è un primo passo si vuole dirottare il denaro o meglio indirizzare il denaro i prestiti finanziamenti ad aziende che si comportano bene da un punto di vista di sostenibilità non solo ambientale ma anche sociale e quindi noi in virtù dei risultati raggiunti e anche in virtù di quanto ci siamo impegnati a fare il prossimo futuro appunto nel campo della sostenibilità ambientale sociale perché ci sono proprio degli obiettivi precisi da rendicontare per accedere a questi insomma finanziamenti appunto abbiamo avuto questo diciamo sostegno dalle banche si vuole creare proprio un circolo virtuoso in questo senso e utilizzeremo questi soldi ovviamente per continuare a crescere concependo la nostra crescita come legata alla sostenibilità perché abbiamo detto che ormai siamo lanciati siamo impegnati ad integrare la sostenibilità in tutte le nostre attività aziendali e in tutte le nostre strategie di business quindi per noi ormai crescita del gruppo e sostenibilità vanno avanti di pari pasto ecco infatti allora io sono solita quando ci sono questi incontri sulle fonti tv lanciare sempre una sfida a chi mi raggiunge in studio nel senso che oggi abbiamo detto tante cose sia teoriche ma anche pratiche abbiamo cercato di dare appunto un risvolto effettivo e concreto di quello che ruota intorno alla sostenibilità ma io mi auguro di vedervi presso sempre qui nei nostri studi per passi ulteriori quindi proprio cinque secondi ciascuno partendo da da guido cosa ci possiamo promettere alla fine di questo incontro ci possiamo promettere di aggiornarci su quello che è l'andamento della sensibilità delle aziende italiane rispetto a questi temi nella sostanza e non solo vediamo se sempre di più si agganceranno dove stiamo andando ma vogliamo andarci ancora più veloci paola assolutamente continuare nella sostenibilità nei nostri impegni di sostenibilità soprattutto di lotta al cambiamento climatico nella produzione con i nostri processi di produzione e anche nei nostri prodotti annunciavo prima la nostra linea sostenibile e quindi continuare così angela focalizzarci sempre di più con i nostri insieme ai nostri clienti e ai nostri diciamo parte dell'intermediazione quindi broker agenti nel comprendere le tematiche di sostenibilità dei nostri clienti e nel valorizzarle e nello scambiare anche del valore rispetto a quello che la nostra esperienza ecco anche perché aiutiamo il nostro paese a essere sempre più competitivo non possiamo prescindere da questo insomma no vero che business is business ma il business a volte va rivisto e rimodulato proprio a di quello che il mondo in generale questo caso ambiente eccetera ci chiede grazie angela rebecchi grazie a paola sabino lupo stanghellini grazie guido zanetti davvero per averci aiutato a comprendere di più quello che si sta facendo e grazie a tutti voi per averci seguiti rimanete con noi sulle fonti tv